Non riesco più a fare ironia, anche se nel vedere questi qui alzare il gomito è difficile rimanere seri. Ma così, nonostante questi sventurati leader europei facciano di tutto per farsi prendere in giro, non possiamo riderci sopra. La situazione tra poco si farà veramente seria. Noi tutti gli ascoltatori sappiamo che ciò del quale ha bisogno l'Europa è di tornare agli stati nazionali, ognuno comanda a casa sua e tutti sono contenti. Ma visto che sono state congegnate così queste organizzazioni burocratiche, allora chiediamoci, dopo la crisi economica innescata, anzi potenziata, dal Covid-19. Noi, noi stati europei, di che cosa abbiamo bisogno? Di liquidità? Eh beh, allora c'è la banca centrale. È il suo lavoro. La banca centrale basta e avanza. Davvero non si capisce perché la Commissione europea voglia sostituirsi alla banca centrale, raccogliendo i soldi dagli stati, che ovviamente in una situazione di crisi economica sono tutti in difficoltà, e poi alla fine ovviamente finisce per litigare nel momento nel quale si deve scegliere un criterio per redistribuirli. Sarebbe stato tutto molto più semplice con la banca centrale. La Lagarde avrebbe deciso così un budget complessivo che sarebbe poi stato suddiviso ai vari stati in base al loro PIL, e se qualche stato, beato lui, non ne avesse avuto bisogno niente, per il resto nessun problema. Perché dopo tutto la liquidità, la BCE, la crea all'istante. Invece no, si chiede agli stati europei di creare due fondi che corrispondono complessivamente al 5,45% del PIL di ogni paese, e poi ad uno dei due fondi le erogazioni vengono fornite sotto forma di prestiti, mentre l'altro fondo sotto forma di sovvenzioni che, vergognosamente, vengono anche chiamati dai media mainstream prestiti a fondo perduto. Personalmente io continuo a ripetere che di quel fondo, eventualmente, a fondo perduto, ci sarebbe la parte eccedente, la contribuzione. Non l'intero ammontare ricevuto, come invece cercano furbescamente e anche vergognosamente i media mainstream di farvi credere. Per essere chiari, facciamo un esempio numerico. Se quel fondo fosse di 400 miliardi, si parla adesso di 390, ma insomma facciamo cifra tonda. Ebbene, a quel fondo l'Italia deve contribuire per il 12,8%, quindi il 12,8% di 400 miliardi, 51 miliardi e 200 milioni. Ebbene, se all'Italia fosse destinata una cifra superiore a questa, supponiamo 60 miliardi, potremmo parlare di fondo perduto, ma solo per la parte eccedente, i 51 miliardi e 200 milioni, naturalmente. Quindi, dai 60 miliardi ricevuti sarebbero solo 8 miliardi e 800 milioni quelli a fondo perduto. perché, appunto, 51 miliardi e 200 milioni ce li abbiamo messi noi, sono nostri soldi, è la nostra quota di contribuzione al fondo. Mentre, ripeto, sui media nazionali cercano di farvi credere che sia l'intero ammontare ricevuto quello a fondo perduto. Ma poi, si parla sempre, appunto, dell'ammontare del fondo, senza ricordare che stiamo parlando di un fondo che deve coprire le esigenze di tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea. Stiamo parlando, quindi, di una popolazione complessiva di circa 500 milioni di persone. Soprattutto, praticamente, senza, non viene mai sottolineato il fatto che si tratta di un piano che si sviluppa in un arco di sette anni. Quindi, veramente ci troviamo di fronte, a mio avviso, senza alcun dubbio, ad importi che si riveleranno largamente insufficienti. Ma se fossero solo questi i problemi, nella realtà ce ne sono altri, molti altri. L'altro aspetto, per esempio, da tenere in considerazione è quello della tempistica. Ieri ho sentito in televisione una persona davvero molto seria e autorevole, non lo dico solo perché è un amico, mi riferisco a Fabio Dragoni, che ha previsto le prime erogazioni del Recovery Fund per il 2024. Non so se si dovrà attendere così a lungo, ma certamente però non potrà essere nella prima parte del prossimo anno. Senza dubbio dovremo attendere molto prima di vedere le primissime erogazioni. Perché? Ma perché un altro aspetto che viene tuttora tenuto quasi ignorato, insomma, è che i fondi arriveranno solo dopo aver presentato dei piani di spesa dettagliati e dopo aver avuto il benestare per quei piani da parte della Commissione europea. E ancora, perché naturalmente mica finisce qui, le complicazioni non finiscono mai, dicevo, sapete che hanno cambiato il nome al Recovery Fund, adesso viene chiamato Next Generation, ossia Fondo per le Generazioni Future. E questo perché quel fondo ha soltanto due capitoli di spesa possibili. Questo è un altro aspetto da tenere in assoluta, assoluta considerazione. I due aspetti sono quelli legati alla cosiddetta digitalizzazione e quelli legati alla cosiddetta green economy, ossia l'economia verde, insomma, le robe di Greta, tanto per capirci. Allora capite che se anche arrivassero quei fondi, noi, ad esempio, non potremmo spenderli, che ne so, per aiutare le famiglie, ma magari per avere l'ok dall'Europa dovremmo magari riempirci di quelle porcate, quelle porcherie delle paleoliche. Sapete che sulle paleoliche io ho la stessa identica visione di Vittorio Sgarbi, mi trovo perfettamente in sintonia con lui su questo tema. Ebbene, anche questo aspetto, sia le rigide, rigidissime condizioni legate ai capitoli di spesa dei fondi provenienti dal Recovery Fund, non sono mai citate nei media mainstream. ma purtroppo c'è un aspetto che forse è ancora più insopportabile. Per esempio, il fatto che con ogni probabilità non potremmo, non saranno così autorizzati alcuni capitoli di spesa soltanto se un solo paese si dimostrerà contrario. Quindi, alla fine, noi dobbiamo fare quello che ci impone l'Europa, ma ci sarebbero anche tante altre cose da aggiungere. Ma mi limito a sottolinearne ancora una, una soltanto. Il nostro premier ha voluto rispondere ad alcune domande dei giornalisti prima di riprendere questi infiniti negoziati. Ebbene, ad una domanda è parso in totale imbarazzo. Quando un giornalista gli ha chiesto se all'Italia saranno destinati fondi complessivi per un importo intorno ai 170 miliardi, così come aveva sempre sbandierato il commissario degli affari economici, Paolo Gentiloni. Bene, Conte ha tergiversato cercando di sviare della domanda. Io ve l'avevo già anticipato che in nessuno dei documenti ufficiali dell'Unione Europea compariva a quella cifra. Quindi, per ascoltatori, vedrete che sarà certamente decortata quella cifra, e anzi sensibilmente decortata. Ma poi sarà anche decisivo conoscere quale importo verrà erogato all'Italia dal fondo a contribuzione e quale importo invece verrà destinato all'Italia come prestito. solo conoscendo questi due dati potremmo stabilire se c'è stata una seppur minima convenienza per il nostro Paese. Ovviamente parlo di convenienza esclusivamente economica, perché per tutto il resto abbiamo visto che non c'è nessuna convenienza. Tuttavia l'attitubanza di Conte mi fa essere pessimista. Temo veramente che alla fine ci riserveranno davvero quattro spicci, oltretutto, ripeto, con condizioni inaccettabili per uno Stato sovrano. Sono davvero curioso di vedere come faranno i vari Casalino & Company a raccontarci che l'Italia uscirà vincitrice dal negoziato. Io mi sto già immaginando la scena. I nostri telegiornali nazionali, la stampa quasi al completo, ad osannare la caparbietà e la tenacia di Conte, che ci ha permesso di concludere con un successo un negoziato oltremodo difficile. Ma naturalmente la verità sarà l'esatto contrario. Ritengo proprio che il prolungamento di queste trattative servono proprio per permettere al nostro Premier di tornare a casa raccontando la storiella che non abbiamo ceduto davanti ai paesi cosiddetti frugali. Mentre l'amara verità è che l'Italia, come al solito, presentandosi col cappello in mano, abbia già accettato condizioni capestro e come al solito ce ne torniamo a casa con le pibe nel sacco. D'altronde, cari ascoltatori, dalla loro adesione all'Unione Europea due Stati sono sempre stati penalizzati, due Stati che ogni anno contribuivano regalando all'Unione Europea circa 5 miliardi ogni anno senza avere alcun beneficio, neppure in campo valutario. Quali erano questi due Stati? Il Regno Unito e l'Italia. Ora ne è rimasto uno solo.